Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accade di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327 e Dio mi concede la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche. Quante cresis, vita dete stabilis, un contorat, et un curat, lu domentis a zier. E gesta te, potesca te, disovit un grazie. Grazie a tutti! Viva nome, viva nome sia, viva nome sia